Una volta parleremo anche di questo, Lu. E vedremo se si potrà fare qualcosa. Lo sai, Aaron? Ho sempre desiderato di arrivare al giorno in cui avrei lasciato il lavoro e comprato una casetta. E avrei dipinto. E tutto questo l'ho fatto. E ora eccomi qui in un posto bellissimo dove c'è il mare e le barche che passano. E io non ce la faccio più. Ogni mattina mi sveglio e... Verrò. Verrò di nuovo. E vedremo di fare qualcosa. Cosa? Quando ritornerò, Lu. Ne parleremo e... troveremo una soluzione. Staremo insieme e ne parleremo. Anch'io ti sono di aiuto. Sì, lo sei. E anche molto. Fermi così? Ah, fammi vedere. Sì, sì, mi piace questa idea. Ma è una posizione scomoda. Sembrano rigidi. Senti, Walter, non è una cosa che si può preparare. E' un sentimento che deve scaturire tra di loro. Aaron è molto nervoso. E spera che quello se ne vada. Senti, devi... Perché non provi a baciarmi come sarebbe piacere a te? Ma io sono fatto così. È difficile, eh? D'accordo, d'accordo, d'accordo. Non fai guardare. Adesso stanno...